Catering La Cucina Piemontese Servizi a domicilio per cerimonie e pranzi Servizio di ristorazione e cucina tipica piemontese Per informazioni al numero 011 980 9968 Oppure 380 326 4631 Puoi scriverci una mail a infochiocciola lacucinapiemontese-catering.i Visita il nostro sito web www.lacucinapiemontese-catering.i Servizio Catering La Cucina Piemontese In via Umberto Primo 15 a Vigone Sportica Pinerolo Da noi troverai discipline come Ginnastica acrobatica, ginnastica dolce, posturale, tonificante, parkour, step Ginnastica artistica femminile e gioco ginnastica Circo sport, balli di gruppo, hip hop e zumba Contatti al 0121 79 55 90 Oppure su facebook chiocciola sportica.pinerolo Scrivici una mail al contatti chiocciolasportica.it Visita il sito www.sportica.it I orari di segreteria sono dal lunedì al venerdì Dalle 16.30 alle 20.30 Sportica Pinerolo Vieni a trovarci in via Cattaneo 41 a Pinerolo Nido in famiglia, la Tana dei Lupetti Mette tutto il suo impegno nell'offrire un ambiente stimolante Ricco di occasioni per lo sviluppo cognitivo, motorio e sociale dei più piccoli A stretto contatto con la natura Venite a scoprire i nostri progetti educativi per la crescita armonica dei vostri bimbi Dai 3 mesi ai 3 anni Telefono 333 428 5994 Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017-2018 A Cantalupa, a un minuto dal centro di Frossasco Nido in famiglia, la Tana dei Lupetti La gioia di crescere insieme